Poi abbiamo l'ADG 23, invece andiamo su una categoria di bacchette con un suono molto più acuto, molto più forte chiaramente. In rapporto ai miei gusti, il mio gusto sono molto più per l'ibrafono, le possiamo usare chiaramente anche come bacchette per xilopono o per marimba, però le ho considerate più per l'ibrafono. Grazie a tutti. Grazie a tutti.